Il ragazzo, prima del reality, era noto soprattutto per la sua storia d'amore con la senatrice del P.D. Stefania Pezzopane contro GF15, usano la mia storia con Simone Coccia Colaiuta Simone Coccia Colaiuta è uno dei concorrenti del Grande Fratello 15. Il ragazzo, prima del reality, era noto soprattutto per la sua storia d'amore con la senatrice del P.D. Stefania Pezzopane. Simone in questo periodo sta ricevendo molte critiche anche da quelli che sono all'interno della casa. Secondo gli inquilini, Simone Coccia Colaiuta non prende mai posizione per poter arrivare fino alla finale del Grande Fratello 15. In merito alla partecipazione al GF15, Stefania Pezzopane ha voluto dire la sua rilasciando un'intervista al settimanale Oggi. Ecco cosa ha dichiarato la senatrice. Simone Coccia Colaiuta è la relazione d'amore con la senatrice del P.D. Stefania Pezzopane ha fatto sapere di ricevere tantissimi messaggi di sostegno da uomini e donne. La senatrice del P.D. ha anche ammesso di aver avuto altri fidanzati belli nella sua vita. Quando ha cominciato a frequentare Simone Coccia Colaiuta, molte persone si sono allontanate da lei, lasciandola sola. In compenso però molti colleghi della politica le sono rimasti vicino senza giudicarle. La Pezzopane ha poi voluto ricordare di essere una donna libera e di poter fare quello che vuole della sua vita. Anche in politica mi sono sempre battuta per le libertà individuali, difendere questo amore per me è diventata una scelta e, se permette, anche una battaglia politica. Queste le parole della senatrice che ha anche ammesso di divertirsi tantissimo insieme a Simone Coccia Colaiuta e di voler sorridere alla vita. Insomma sembra proprio che la senatrice del P.D. sia felice e contenta insieme al suo compagno, anche se non sta gradendo il modo in cui si parla della sua storia d'amore. Stefania Pezzopane attacca il G.F.15. La senatrice del P.D. ha rilasciato un'intervista dove ha ammesso di non aver gradito il modo in cui è stata trattata la sua storia d'amore con Simone Coccia Colaiuta. Stanno facendo di tutto per sottolineare certi aspetti del suo carattere nella speranza, forse, che io mi infastidisca. Purtroppo hanno fatto male i loro conti, conosco molto bene Simone e lui dentro si comporta come meglio crede. Queste le parole di Stefania Pezzopane che ha anche avvisato il suo compagno prima di entrare nel reality chiedendogli di non cadere nelle trappole. Non ci resta che attendere per scoprire se prima o poi Stefania Pezzopane deciderà di fare una sorpresa al suo fidanzato durante la puntata serale del Grande Fratello Quindici. Grazie a tutti.